buonasera 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 a tutti dalla voce in una voce tutta la retorica sul miglioramento sarebbe ora svanisse sarebbe ora si estinguesse e invece no migliorati 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 l'importante è migliorarsi nella vita bisogna sempre migliorarsi il problema non è tanto il termine migliorarsi che potrei anche utilizzare anch'io intendendo la crescita personale intendendo diventare umanamente più sensibili più rispettosi più gentili più capaci di saper gestire con saggezza le emozioni migliorare la propria capacità critica ma il fatto che miglioramento oggigiorno ma da sempre viene inteso come un qualcosa di puramente esteriore esterno e superficiale il termine miglioramento soprattutto viene utilizzato per dire migliore il tuo corpo banalmente va in palestra magari uno ha un chilo di troppo ma al di là dei chili non è particolarmente tonico ha una leggerissima pancetta una ragazza ha una leggerissima pancetta non fa palestra e quindi ha un corpo non ovviamente a rischio per eccessiva obesità non particolarmente sovrappeso no magari il peso è anche nella norma però non ci sono particolari muscoli se maschio se femmina non c'è particolare tonicità e allora dai farlo per te stesso migliorati e se uno non lo fa non ci va in palestra non si occupa di quell'aspetto e vedi non ti prendi cura di te ma chi l'ha detto che prende sicura di sé dovrebbe essere andare in palestra poi se si dicesse questo accanto anche al resto alle cose serie fondamentali importanti che riguardano davvero la persona potrei anche comprendere perlomeno se andrebbe a puntualizzare su più fronti invece no si parla solo di quello si parla solo di quello hai le sopracciglia di un certo tipo bell'estetista oppure inizia con dei tutorial da parte da solo o da sola in un certo modo e i vestiti è venire conto di quanto è idiota questo mondo cioè pensare che la propria felicità una propria autorealizzazione una propria un proprio benessere possa arrivare perché si cambiano i vestiti perché ci si veste in una maniera diversa e questo addirittura associato al rapporto con l'altro se ti vesti in maniera diversa potresti ottenere più successo con l'altro senso ma su che basi nascono le relazioni se il vestito se il look è fondamentale ma cos'è questo mondo dove citando una canzone di Marco Masini dentro di te fuori dal mondo bisogna vivere con l'anima di fuori e in questo grande elettroshock è solo il look che conta la facciata ma magari è pure vero che se ti metti un certo tipo di jeans di maglietta di stile avrai susciterai maggior interesse negli altri ma è un successo ma che tristezza ma chi se ne frega di chi è tratto se metti quei jeans e se mettessi invece una tuta non ti vorrebbe ma che roba è che roba fottutamente denigrante per quanto concerne il cervello umano è una roba sconcertante migliorarsi nel senso di beh dai dedicati al tuo crescimento culturale leggi più libri ma non sto dicendo che sia sbagliato leggere libri assolutamente fa bene può fare assolutamente bene leggere può non è ovviamente una garanzia ma anche lì ci avete messo la banalità pure per quanto riguarda l'intelletto tutta una roba anche qui di facciata leggi libri perché fa cul dire che poi è letto quei libri non voglio paragonare il leggere libri ad andare in palestra ma in realtà lo ribadisco perché qualcuno fraintenderà io non dico che si sbaglia ad andare in palestra un palestra ci può andare assolutamente poter anche dall'estetista dal parrucchiero una volta al mese ma quello che cerco di sottolineare è il fatto che il vero l'autentico il più importante il fondamentale miglioramento non sta lì non sta nel fisico non sta nell'accumulare nozioni o nella crescita propria cultura non sta nei titoli di studio non sta nel acquisire nuove abilità e skills come si dice oggigiorno skills abilità né in discipline specifiche ma neanche in abilità sociali io un tempo ero più imbranato nei rapporti con gli altri ora sono più skills o più skill perché sono più socievole più simpatico ma non sto dicendo che sia sbagliato diventare più socievole o più simpatico o meno timido non sto dicendo che sia sbagliato per quanto uno non debba necessariamente diventare socievole perché non c'è nulla di sbaglio nel non esserlo ma succedendo che sia sbagliato se uno si è troppo bloccato smuomersi in tal senso ma il fatto è che è tutta una roba esterna perché ti dicono che quello è importante è tutta una roba da far vedere agli altri è tutta è tutta un'esibizione è tutta è tutto un esame è tutta una prestazione mi faccio vedere che ho skills figo cool vestito guarda quanto ho letto guarda che hobby che ho ma è la banalità del niente il vuoto cosmico e in questo senso migliorare diventa un disvalore per migliorare devi smetterla di voler migliorare allora lì sì che arriva il vero miglioramento se poi vogliamo utilizzare il termine miglioramento in una concezione più nobile più sensata allora va bene crescita personale miglioramente proprio arrivare a ragionare a capire queste cose che vi ho detto ma non solo logicamente dirle costatarle ma sentirle assorbirle c'è differenza è fra capire trattamente una cosa e sentirla c'è un esempio tutti capiscono tutti sanno che si deve morire ma apparentemente in realtà non lo sanno un conto è genericamente razionalmente sapere di dover morire un conto è questa cosa sentirla dentro le persone non vanno a fondo miglioramento inteso come non guardare agli altri la società cosa si aspetta che è popolare questo devo diventare popolare devo seguire quelle linee per piacere più il consenso ma al diavolo il consenso e che c'è un oggettiva strada giusta non è semplicemente soggettivo no c'è non su tutti i fronti ma per quanto riguarda le caratteristiche è oggettivo che un essere umano migliore senza voler denigrare nessuno e fare classifiche sia un essere umano capace di saper gestire meglio le emozioni capace di capire le proprie emozioni un po di più non nel senso assoluto capire un po di più gli altri non pensare solo a sé ma anche agli altri saper vedere oltre il proprio naso capacità di non fermarsi alle apparenze ma andare oltre che cosa è l'intelligenza se non andare oltre le apparenze andare oltre i luoghi comuni ma quanto è triste quanto è sfortunato un uomo che non riesce ad andare oltre i luoghi comuni la tradizione i dogmi imperanti quello che dicono gli altri il consenso ci pensate la cosa più triste di questo mondo io vivo e quello che il mio pensiero è tale perché lo dicono gli altri perché la maggioranza la pensa così è la negazione di quello che vuol dire vivere compiutamente la negazione di qualunque felicità di qualunque possibilità chance di un vivere decente vivo secondo quello che è il dogma quello che mi hanno detto i genitori quello che si è sempre fatto ma che tristezza è questo vuol dire crescere migliorare andare oltre tradizioni dogma e dogme le modi la maggioranza anche i miei auto pensieri ossessivi di cui mi auto convinco e non riesco a liberarmi andare oltre cercare di guarire dalle mie ferite non del tutto ma almeno in parte e anche se non riesco a guarire dagli effetti che magari il passato mi porta cercare di saperlo leggere con distacco lucidità lucidità senza perdere però il calore il calore senza perdere la lucidità questo vuol dire migliorare e quali parlano di pancette e sopracciglie di tonicità di hobby di passatempi di vestiti di titoli di studio di stipendi di viaggi di gare di prestazioni ciao a tutti